Radio U, solo quello bene Asuna, 25 anni, vengo da Venezia, a scorsare la provincia di Venezia e faccio la cantante, almeno ci provo al momento Mo, Diplo, Major Lazer, Beyoncé come sempre troppo da sogno, Beyoncé, però anche Mo, mi piacerebbe moltissimo difficilissimo, aneddoto curioso Non mi viene in mente Aneddoto curioso No ragazzi, mi avete messo in difficoltà, non mi viene in mente niente Un saluto a Radio U, solo quelle belle